succede sempre con le cose brutte è facile immedesimarsi e anche se pensi di essere l'unico ad essere sfigato sappi che non è così ecco qui alcune situazioni in cui potrai immedesimarti wow vicky ho bisogno di te mi hai chiamata ho tanta fame ma non posso smettere di studiare non c'è problema ora ti preparo io qualcosa a bella potrebbero servire delle proteine per lo studio e la pancetta è perfetta ma se non l'hai mai cucinata prima sai che potresti fare un gran casino e potrebbe essere persino pericoloso questo olio è caldo e arrabbiato e temo che mi voglia attaccare il viso oh brucia oh devo allontanarmi mi sarei dovuta mettere degli indumenti protettivi vuoi giocare eh beh eccomi qui presto rimetti il coperchio ecco fatto ora basta ti ho preparato qualcosa ma mi è costato caro oh fa male ti ringrazio per prenderti cura della mia pianta io la adoro sta bene dove è umido e caldo e deve essere nutrita due volte al giorno e non dimenticare di annaffiarla sarà fatto è la migliore bella ci vediamo tra una settimana ah ma che buon profumo tanto vale annaffiarla subito o no prendersi cura delle piante è semplicissimo ah la pianta di vicky chiamatelo 112 non puoi morire bevi bevi rimettiti piccola pianta ecco le tue foglie vicky mi ucciderà come hai potuto farmi questo? il mio unico e solo amore adesso come farò? devo andare a comprare un'altra pianta bene il bucato è fatto ok adesso è fatto accidenti non si finisce mai immagino che dovrei cambiare le lenzuola inizierò con l'angolo più lontano sembra facile ehi non ho detto che potevi vener via facciamo di nuovo questo lato ecco qua sul serio? perché non si riescono mai a mettere? questo è tutto è arrivata l'ora del saltello sulle lenzuola uno due tre sì oh oh non dovresti stare sopra vick? bella veloce girati perché abbiamo scelto un altro film dell'orrore? che cos'è stato? c'è qualcuno in cucina vai tu a dare un'occhiata bella dai andiamo insieme ma perché ogni volta che guardi un film dell'orrore ti fa questo effetto? vedi qualcosa? non fare movimenti improvvisi grande vicky? che c'è? sai cosa intendo? è troppo complicato starò allerta l'assassino stava usando il mestolo non capisco mi sa che sei un po' impressionata però qualcosa era nulla di meglio di uno spuntino guardare la tua serie preferita tutto finito vuoi che te ne prenda altri? bella ma come sei gentile wow mi sa che li ho riempiti troppo sai che ora li devi portare di là non è vero? ok mano ferma mano ferma più piano vado meglio andrà la maniglia fatto ora afferra molto bene ci siamo quasi le bevande stanno arrivando vick ai rimani concentrata ora gli ultimi centimetri ecco qui bello e pieno non posso credere di avercela fatta ora posso bere e che ci vuole? non poteva essere altrimenti maledizione quando si tratta di fare un casino niente è meglio di una barretta proteica dal momento in cui la apri piovono briciole bella no wow guarda che disastro tutta questa roba da uno snack così piccolo accidenti per favore basta stai bene bella? il danno è fatto tanto vale mangiarla e io ho spazzato per nulla ehi ce n'è ancora? no metti la giù ma chi sarà? un film? adesso? ok sto proprio bene modestamente oh guarda il selfie di Kevin anch'io ne faccio uno wow ma sono veramente così ho bisogno di truccarmi non posso farmi vedere così proviamo di nuovo di cheese e ma sono un mostro ecco non esco più sono troppo brutta per andare al cinema ehi sul serio? ma che palle ma ho qualcosa che non va col naso beh farò senza bella i miei occhiali sono proprio sotto di te sposta il sedere sì li hai proprio rovinati ma perché me li sono tolti? ora sono peggio di prima Vicky ma non ti serve anche questa? non so riesco a malapena a vedere la prossima volta non li togliere era meglio se non le mangiavo quelle barrette di cioccolata fatemi passare ok arrivo finalmente ma non ho il telefono oddio devo andare a prenderlo scusa ma non sta bene maledetto telefono accidenti va bene finalmente è il momento bagno sto arrivando quale dovrei indossare Vic? non mi importa devo entrare cacchio c'è mancato poco dunque a te è successo qualcosa di simile condividi il video con i tuoi amici così che sapranno che non sono soli e come sempre assicurati di iscriverti al canale youtube One Two Three Go per altri video esilaranti come questo a te è successo a te Grazie a tutti.